ciao a tutti oggi abbiamo un lavoro aerobico ma attenzione a non cadere nel nel tranello della lezione aerobica e cioè una lezione aerobica è facile da gestire perché in realtà non è così ovviamente non è come a livello di intensità cardiaca e anche di sensazioni come potrebbe essere un hp t ok come abbiamo fatto le altre volte però è una lezione che merita molto controllo e molta consapevolezza per poterla fare come viene proposta quindi se vediamo io lo faccio apposta come al solito lo sapete se vediamo che non riusciamo a mantenere dei certi obiettivi cardiaci in funzione del grafico che propongo non facciamo le tecniche che sto proponendo e cerchiamo di mantenersi a livello cardiaco su quello che propongo ok così viene così riusciamo cerchiamo di portare a casa questo allenamento aerobico perché si tratta di un allenamento aerobico diviso in tre blocchi di lavoro ma di fatto è un allenamento che è abbastanza continuo ci sono delle tecniche tutta la prima parte sviluppata in agilità e quindi questa agilità lo sappiamo che non è semplice mantenersi aerobici in una parte di agilità e magari tante volte sì per per cercare di fare tutto magari ci si sporca ci si sporca scusate mondo mi si è scaricata la batteria mi si è scaricata la batteria del non riuscivo a capire da dove veniva quel che voi non sentiva e quindi andiamo avanti ci sono tante tecniche il grafico comunque per poterlo mantenere così non sarà facile ma proviamoci ok le musiche sono molto scelte ricercate e le vedete in sopraimpressione ok quindi tutte le facce che vedete in realtà sono sono i brani che che vanno a comporre questa playlist che una playlist molto anni 2000 ma in realtà si va anni 90 si arriva fino ai giorni nostri quindi musiche meno pumpate oggi e più melodiche più emozionali ok allora vediamo di partire sincronizzati buona pederata a tutti e via 321 partiamo con la piaggia cosa dite vi piace la piaggia c'è tutto c'è tutto c'è tutto no manca l'orologio tempo ok ce l'abbiamo sentiamo bene il ritmo ciao Giuliana andiamo con il ritmo e già questo ritmo ci lascia ci lascia scorrere la giornata ok si lentamente e e e e cosa dite a ah si iniziamo con c'è va bene fatti sulla musica la tua bike allora mi ricordo che l'obiettivo è cercare di mantenere questo lavoro totalmente aerobic oggi ok se siamo molto allenati ci accorgeremo che in certi momenti dovremo agire per non far scendere troppo il cuore in altri momenti invece dovremo gestire la nostra intensità cardiaca per non andare oltre ok però orientativamente lavoreremo tra il 75 e l'80 per cento ok della nostra frequenza cardiaca teorica massimale ok ok con l'audio si bene siamo appena partiti volevamo solo una sincronizzazione con il momento musicale buona Grazie a tutti. Questa attenzione alla mia respirazione, alla musica e a cominciare a sentire il contatto con il momento, con il mio corpo. Comincio ad agire un po' sulla resistenza per prepararla ai lavori. Tutta la prima parte è in agilità, quindi attenzione. Diretto. 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 Percepisco, comincio a percepire ogni angolo del mio corpo, oltre alla musica. Ok, comincio a chiudere un po', solo per sentire il volano in pieno controllo. Ok. Ok, 100 pedalate. Comincio con dei jump, va bene? Sempre easy, sempre semplice. Jump da 8 tempi, ne facciamo 4, ok? Facile, facile. Occhio alla schiena. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 1, vai. 2, 1, vai. Sì. Ancora uno. 2, 2, 1, vai. Sì. Sì. Ok. Qua. Qua. Adesso qua. Com'è andata? Allora, un po' più di sicurezza nelle mie gambe. Ve lo dite. Eh? Questa la ottengo con un po' di chiusura. Siamo pronti? Seconda serie. Quattro tempi. Sì. Ok. Ora, vai. Uno. Sì. C'è troppo veloce. Salta nei quadri. Ok? Sì. Quattro, vai. Sì. Sì. Hop. Ultimo. Hop. E' troppo veloce. Ah. Ok. Adesso qua. Calore. Sì. E' andata. Eh? E' troppo veloce. Se è troppo veloce mi concedo una pianura con un po' di resistenza. Ok? Senza problema. Faccio altri otto. A quattro tempi, ok? A quattro tempi, ok? Attenzione che siamo un po' veloci. Se la sento troppo veloce, lascio perdere. Ok? Vado un po' di resistenza. E attendo alla fine di questo lieve, leggero tsunami. Ok? Siamo pronti? E' andata. Uno. E' andata. Due. Più la ginocchia. E' andata. Tre. Quattro. Facciamo l'inizio. Se il cuore sta schizzando troppo, non lo faccio. Ok? Sì. E, e, e. Vai. E. Ok, adesso qua. Calore. Faccio la musica. Come va? Come va? Calore. Quindi una serie. Da quattro. Poi ne faremo una giro d'olta. Ok? Un po' superissimo. Saltarne qualcuno. Quattro tempi. E, e. Vai. Uno. E. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Rallenta la pianura e chiude un po', ok? Un po' di resistenza, poco o poco. Come va, hanno sentito il calore? Però a livello muscolare ancora non abbiamo sentito niente, giusto? Adesso tra un po' incominceranno a mettere un po' il lavoro muscolare, ok? Senti come è rallentata, siamo passati a 100 pedalate, possiamo stringere un pochettino? Mi preparo dei jump da 8, un po' più con la resistenza, ok? Attenzione, tutto aerobico, eh? E, siamo pronti? Vai, o no? 5, 6, 7, 7, 8. Stabilizza bene quando vai fuori stella. 5, 7, 7, 8. 5, 7, 8. Stabilizza bene quando vai fuori stella. 3, 5, 6, 7, 8. Stabilizza bene quando vai fuori stella. Uncora 1. E. Ok. Stabilizza bene quando vai fuori stella. 4, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 4. Bene. Sì. Bene. mi raccomando, verifico un attimo i polsi il peso della mia testa torno leggero mi ricordo che c'è tanta agilità nella prima parte adesso per la prima volta cominciamo a mettere un po' più di resistenza per mantenere l'obiettivo del 75% in pianura cambierà a livello muscolare la sensazione stringo e senti e lavoriamo di crossing, ok? adesso il muscolo ci proviamo? allora dei crossing, quindi sono dei momenti di resistenza, resto qua, 3, 2, 1, prova, stringo resta sulla scella e lavoro di gamba tutto aerobico, mi raccomando, stiamo appena all'inizio, dobbiamo solo scaldare un po' i muscoli via, sì, sì sì, sì ok, tutto liberare, 3, 2, 1, libero un po' facciamo così, ok? attenzione, cerchiamo di non scendere sotto il 75%, ok? e poi quando facciamo i crossing non saliamo sopra le 80%, ok? ok, chiudo per mantenere l'obiettivo non è facile, lo so prova rimani qua pronto al crossing eh? dura 40 secondi il nostro crossing, ok? con la resistenza sono tranquilli stringiamo insieme stringo sì, vai sprui la ginocchia e sì, sì attenzione a non trasferire questa tensione sopra eh? lasciate nelle gambe eh? eh? secondi eh? tieni, tieni, tieni eh? tre, due, uno libera che facile non scendere troppo, eh? mi raccomando appena scende troppo stringi un po' oppure vai in running per mantenere il 75%, ok? 30 secondi facciamo un altro crossing cosa dite? ok 20 secondi e partiamo se sta crollando qui col cuore fai qualcosa ti, ti crossing crossing veloce 40 secondi sì, calor tre, due, uno stringo sì, sì, sì un po' e lo sento il dolore muscolare, no? nella velocità e dai, dai, dai 20 secondi facciamo tenerlo oh yeah yeah ok vivere un po' come va? allora siamo a lui siamo a lui ma non ciao scendiamo al 75% ok? e con dei running adesso facciamo sempre 75% ok? cerchiamo di controllare questa e sì non scendere troppo quindi o ti metti lì con un po' di resistenza oppure ti metti con un balance un running nel bilanziamento essendo consapevole che la prossima tecnica sarà di running ok? e durerà 60 secondi siamo pronti? mi posiziono qua 75% eh eh 60 secondi di running massimo 80% un piatto qui ce l'abbiamo nelle gambe del cuore qui pronti sì pronti è un running che deve essere fatto con un po' di resistenza 3 1 2 1 1 si su e vai gestisci la running flat e aerobico respiro 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 12 12 11 12 12 13 12 13 ne facciamo ancora uno respira respira ritrovo il balance cerco di mantenere l'obiettivo cardiaco allenante ai nodi un minuto in run 3, 2, 1 ora vai lavoralo un minuto tra agilità e controllo si il ritmo la cadenza 30 secondi balance regola aerobico deve essere non sporare aumenta la cadenza trova un su trova un modo per mantenerti aerobico modifico i miei piani in corso d'opera e si bene bene allora abbiamo chiuso questo primo mini blocco aerobico l'abbiamo mantenuto aerobico? no? va bene abbiamo un mese per riprovarci chiudo mi permette una discesa del 70% per la mia frequenza cardiaca tra posti di parte con un running quindi valuta tu come mantenerti nel range un po' di resistenza potrebbe bastare a realizzare la discesa del mio cuore come è andata? bene bene paravan paravan set 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 voto audio ok va bene siamo pronti a risulire momenti di running va bene? ci vi portano a ricostruire il nostro lavoro 3, 2, 1, su Vai 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 Visto tecniche, quando siedo non perdo niente Vai, rientro Quindi devo stricciare un po', secondo me Mi preparo un altro running, da 40 secondi Ok, sono circa il 75% della mia frequenza cardiaca È vero? Sì, trinco un po', non perdo niente Pronto a risalire, non perderei niente Devi andare a girare sulla resistenza 84, pedalate al minuto Su Ok 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 in each day in your face to mind I can't hear your laughter I can't see your smile Slave to love Slave to love I can't escape Slave to love Slave to love Slave to love I can't escape Ok, siedo Non perdo niente E qua comincia ad essere bello Vero? Eh Dai Venti secondi Più resto seduto Più sento Il lavoro muscolare Vero? Matteo Ultimo running In 60 secondi questa volta Non supero il limite aerobico 3 2 1 Su Ovviamente devi regolare Devi togliere un po' adesso Non lo so Non andare oltre E Gestisci In equilibrio In questo momento Ti 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 Mi sapevo di rimanere in zona aerobica Dal mondo in cui sto affrontando queste respirate No? Sì Bene Mi raccomando Non basta su quello Bisogna anche regolare la postura Ok? Sì Pronti a sedere E a continuare? Lì Vicino a questo limite immaginario Che lo chiamo aerobico Rientro Ok Vedi tu come fare per non perdere niente Una postura di sale E Di nuovo su E Facile Dai che lasciamo l'agilità L'equilibrio E il balance Per andare a lavorare con più resistenza E Per andare a lavorare con più resistenza Per andare a lavorare con più resistenza Sì 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 Ok, rientro? Stringo? Cosa dite? Andiamo? Allora, mi permetto questa discesa del cuore al 75%, che tanto discesa non è, perché lo sento montare nei muscoli delle gambe, ok? 75%, cercalo! Si lavorano sempre tra 75% e 80%, ok? Jump, quattro tempi, con la resistenza questa volta, 3, 2, 1, 4 volte, 1, 5, 6, 7, yeah! E' andata? Stringo un po', deve salire, eh? Sì, sapevamo un'idea, 2, ok, andiamo col terzo? Andiamo col terzo? Ehi! Un po', ancora uno, eh? Eccolo, ultimo, vai! Ok, porta liberare un po', libera un po', sì, per anni montaigne, sì, sì, balas, balas, per anni montaigne, sì, sì, manteniti su limiti aerobico, per anni montaigne, sì, 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 Scusa di insedere Perdo qualcosa Ma devo rimanere sul pezzo eh Devo rimanere sul brano Devo rimanere qua Comobi Rientro Com'è? Ci siamo? Allora Riparto Questa volta in standing mountain Stringo un po' Pronti? Qui siete? Andiamo 35-30% ok? Standing mountain Stringo Fuori Eh Sì così 30 Secondi Mi c'è la bico Sì 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 Secondi Sì Mi c'è la bico Ok amici Andata Allora mi concedo qualche secondo Poi devo subito andare a reagire sulla resistenza Ok Per far sì che non crolli Ah picco 75% il minimo Ok Proviamoci Sì 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 Amici Sì 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 6 7 8 Vai 1 2 3 4 5 6 7 Sì 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 così Sì 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 come va amici? tutto ok? vedete ok? diciamo di si ultimo standing mountain e 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 così e così 30 secondi bomba! 50 secondi e 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 dai 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 rimani qua rimani qua due minuti step in mountain pronto? 3 2 1 mi provo su e due minuti eccoli sono loro bufetti nel mio orologio ehi! vi abitiamo i maneschi questa quest'ultima parte di questo secondo blocco si! ci siamo amici? tutto ok? hey! mattina in balance no! 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 Un minuto Aumenta la cadenza Lo senti Regola il movimento Abatti E' tutto aerobico Tutto gestito Mordi le spalle Mordi il scollo Sì Controli sulle gambe Su il bacino Sì Sì 30 secondi Dai che ci siamo Finita Libra Ok Allora Andiamo a recuperare Andiamo a recuperare quel pochettino Come va 70% Ok Rispariamo l'ultimo blocco Eh Lua Lipa Ci riporta Con l'emozione Un po' fin giù Come la stiamo gestendo Bene Ritorno leggero Ok Wow Ok Attenzione eh Dobbiamo regolare Per non scendere troppo Sì 70% Ok Recupero anche un po' di liquidi Se gli operci Questa fa sudare Running Momenti running Ok Momenti running Pronti? Tutti insieme Facile facile E ricominciamo Il nostro percorso in salita 75-80% Ci si arriva Stringo un po' 2 Ok Vai Mix Di running Su Ok Mix 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 Vai Su 3 2 1 Devo continuare A salire Quindi siedo Stringo un po' Vai Il sabbio Il sabbio Vai sabbia Di nuovo un altro momento Il running Ok Direzione 75% Di nuovo Stringo Running E Vai E Vai Vai Attenzione che quando c'è da adesso Devo mantenere questo 75% Se lo raggiungo Ok Rientro Vai Stengo un po' Se non lo ricerco Lo ricerco Lo ricerco Se c'è da che è arrivato a un certo punto il running Sarà di mantenimento, di bilanciamento Non più di ricerca Andiamo su Su E Guarda che lento Ci compariamo Vai 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 Senti che lento Cosa ti sta a significare questo? Vai Resistenza che aumenta È vero? Ok Rientro Pronto? Si sale di nuovo Si sale di nuovo Lo sento nelle gambe Trasforma Trasforma Subito Running Mountain Ok Ok Su 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 E E E E Siete E Ritmo Running Running Mountain Balance In Dance 35% Pronto a salire? E L'avete cacciata emozionalmente? Ok Robico 35% Ok Ci diventiamo un po' Stringo E Pum Pronto a lo standing? Quello che ti fa salire Al limite Robico Ci proviamo? 3 2 1 Stringo Stendi Senti là E giudio Senti come morde Sta mordendo Stringo Stringo Uno, c'è da libero, libero un po', com'è andata? Le vostre facce non mi dicono l'erobico. Ci riproviamo? Allora, non scendo se ho perso da 5%, cosa dite? Via, rimetti, resistenza, pronto a ripartire. Andiamo in running? Andiamo in running, ci proviamo? Running. Contro lo standing, quello che ti porta di nuovo, lì eh, al limite. Non devi rigollere tutto, devi tenere. Un po', un po', un po'. Stringo, e standing. Yeah, si è tirato. Pumpa nel cuore. Sappiamo bene le gambe, ma non le fermo. Hey. Si. Cadenzia aumenta. La mano del cuba. Hey. Si. 10 secondi. 10 secondi. 10 secondi. 3, 2, 1. Si tente. Rientra al libro. Ma riprende subito, eh. Single. Riesco a tenerlo? Come va, amici? 7 minuti, ed è finita. Stringo un po'. Non ho perduto niente, eh. Siamo al limite, Robico. Siamo lì, ce la giochiamo lì. Ce la giochiamo lì. Andiamo su in running? Dai. Andiamo su in running? Proviamo? Su. Pumpa, pumpa sul ritmo. Pumpa sul ritmo. Stendiamo un po' in 40 secondi. Emozionali. Stringo. Hey. Pumpa. Abbiamo finito l'energia. Havana del cuba. Hey. Pumpa. Hey. 15 secondi. Hey. Dai, 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 dai. Siedo, libro. Siedo, libro. Bene. Scendo al 75%. Vi preparo per le ultime tre. Tre sedonga. E le affidiamo a una veterana. A una veterana. Cosa dite? Andiamo un attimo in running? Dai, non perdiamo. Non perdiamo questo momento. Qui. Dai. Mi attesto al 75%. E lo stabilisce dal seduto. Con l'ingresso nel nuovo brano. L'ultimo. Lei. Lei. È lei che ce lo regalerà. Siedo. Stringo. 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 Siete gambe. 75. 75. Pumpa. Tre ultime crestine. 75-80. Ok? Cosa dite? Non scendere 75-80. Mi raccomando. E. Sta arrivando. Si sta preparando. E lei. Era lì nel sopra. Che ci osservava da inizio lezione. Aspettava il suo momento. Grande mountain. Pronti. Un aumento di cadenza. 3, 2, 1. Running. Piss. E. 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 Un minuto. Avete capito chi è? Non ancora, è vero? Non si è ancora svelata. Non si è ancora svelata. E. E. Era lassù. Che ci osservava. 40 secondi. Aerobico. 25 secondi. E. 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 Ci sono momenti di sconforto. Di sconforto. Riprendiamoci. E. 3, 2, 1. Siedono. Per un po'. Com'è andata? Ok. Mi raccomando, perdiamo poco. Ripartiamo tra 15 secondi. Stand mountain. Di nuovo. Cresta 2. Cresta aerobica. È un gallo aerobico. Va bene? 60 secondi. Ci proviamo? 2, 3, go. E. Oh, fast. E. L'ultimo. E. Dai. Sì, sì. Cresta. Sta suonendo? Sì, go. Sì. Yeah. Ficcicotti. Pupo. Ciccotto crescentato. Sì. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Metro. Libro. Ultima. Ultima. Ce ne andiamo tutti a mangiare. Va bene? Chi vuole massimizzare se ne va direttamente a dormire. Va bene? Ultima. Ultima. Facciamo noi le energie e partiamo, ok? Cosa dite? Stringo. Clu. Popa. E. Frequenze basse. Diretti al cuore. E. 50 secondi. E. Lutero amico. E. Balanzo. E. 20 secondi. Dai, si Dieci secondi Rientro Libro Andata Tolli Sì, lo so, dovremo rifarla Per farla aerobica Ma va bene, dai Allora Tolgo, ricerco Per qualche Per due minuti Un 65% lo mantengo E poi libero tutto e mi fermo, ok? Grandi Fatta Fatta Grandi Bene Totalmente diversa dalle altre, ne sono consapevole Sì Ma anche questa è estremamente allenante Nella parte aerobica Se siamo riusciti a mantenerla tale Aerobica e tecnica Aerobica e tecnica Perché per mantenere l'aerobica ci voleva tanta tecnica Quindi non era semplice Come al solito Bene Libero Facile 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 Batto Batto su Nelly Su Nelly Ok Wow Wow Siamo ripresi? Libero Libero Finisce Rallento le gambe Cavallo di battaglia Cavallo di battaglia Cosa dite? Uuuuuh Facciamo fermarci? Cosa dite? Ok Prendo aria Ispiro 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 Vado ancora Aria 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 Giù Ispiro 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 Ok, attenzione, uno, due spalle, due, cambio verso, uno, due, tre, ok, la gaffa a sinistra è distesa, il braccio sinistro lungo la gamba, la gamba destra è alzata, il ginocchio guardo avanti, il campo lo giro, lo basso e lo porto nella parte opposta dove la gamba è distesa. La mia scatola è una La mia scatola è una La mia scatola è una Ok, torno centrale su, mani sui manubrio, giù il torno della gamba dietro, sta dietro come al solito non colpo il paccio, spalle dritte, tomati chiusi, collo, allungato, continuo a respirare, e continuo a fare tra i miei nodi, è Ambiamo ok pian pianino stiamo chiudendo il cerchio portando al punto di partenza mi siedo pian pianino scendo dalla bike andiamo avanti ancora un po di stretching appoggio come al solito il tallone sulla base della bike spalle aperte riporto sulla punta del piede cercando di avvicinare il busto alla gamba rilasso il collo mi aiuto riprendo la gamba e la porto dietro afferrando il collo sul piede chiudo, alligno le gambe mi sento un momento più grande grande controcivite funerale e poi sposto sulla punta del piede spalle aperte cerco di avvicinare il busto alla gamba riprendo la gamba farlo riporto il piede la porto dietro stellone tocca il gluteo si riesco allineo le due gambe riporto il piede riporto il piede spero spero chiudo le mani scusate le gambe mi ha destabilizzato questo finale inspiro grazie grazie scusate il taglio non me ne sono accorto spero che vi sia piaciuta feedback sempre ne ho bisogno ciao alla prossima